Il Lions Club di Gela ha ideato un progetto che sarà presto lanciato in città. Noi abbiamo già comunicato che siamo entrati in un circuito che si chiama l'Associazione Internazionale Città Murate Lions. Siamo il primo club in Sicilia ad aver aderito e ne fanno parte città, intanto sono 117 nel mondo, di cui fanno parte San Marino, Gubbio, Lucca, Bergamo e città internazionali come Avignon, Carcassonne eccetera. Quindi ci andiamo a confrontare con delle bellissime realtà che noi conosciamo e anche noi nel nostro piccolo speriamo di fare bella figura e quindi diventa una scommessa per noi Lions ma anche per l'amministrazione e la città tutta. Qual è questo progetto? Ecco, questo progetto quindi a parte il discorso che siamo entrati all'Associazione Internazionale noi avremo la presentazione ufficiale del nostro ingresso a Castelfranco Veneto perché si tiene un congresso all'anno nel mondo quindi a giugno sarà a Castelfranco Veneto, il club di Gela presenterà la propria città, le proprie città e quindi le proprie mura e i propri scopi, i progetti e quant'altro. Praticamente è un videoconcorso, quindi un concorso videografico, siccome noi avremo 10 minuti per presentare al mondo la nostra città murata e questi 10 minuti noi proietteremo dei video e quindi faremo la nostra relazione. I video vogliamo farli fare ai cittadini, quindi quale migliore idea se non quella di bandire questo concorso videografico dove potranno partecipare tutti gli alunni della scuola ma anche i cittadini, anche i professionisti dove ci saranno dei premi, penso 3, 4, 5, vediamo quelli che saranno, però già il bando è pronto quindi è una bella scommessa, un bel lavoro, il lavoro dovrà essere presentato entro marzo quindi invito tutti quanti volessero partecipare a fare delle riprese di questo palio che quindi rientra bene o male nella storia di Federico II, l'anno mio sociale improntato proprio su questo su Federico II, la città murata di Gela. Noi abbiamo una grandissima storia, lo sappiamo, siamo qua a ripeterla però è un po' trascurata e noi vogliamo rilanciare. Chi volesse partecipare cosa deve fare? Ecco, praticamente deve preparare un video, se vuole a colori oppure misto colori bianco e nero che faccia vedere le mura di Gela, anche le riprese delle feste che si svolgono all'interno delle mura anche per titolo è il tema, le mura gelose custodi della storia, arte e cultura della nostra città. E spedirlo a chi? Ecco, questo va spedito a me presidente e adesso metteremo in circolo il bando dove ci sarà l'indirizzo mio e spedire lì la copia con CD, pendrive che comunque poi la valuteremo faremo una bella commissione, già in mente da chi sarà composta, poi lo metteremo per iscritto e quindi credo che sia una bella scommessa.